Santa Maria Goretti torna sul Tirreno Cosentino e per la prima volta farà tappa a Praia Mare dopo l'esperienza del 2010 a Tortora. Il prossimo 19 febbraio la parrocchia Santa Maria della Grotta accoglierà il corpo della martire. Saranno giorni intensi per fedeli e non, proprio nell'anno in cui in città si celebra il primo centenario di istituzione della parrocchia e il giubileo della misericordia. L'arrivo della Santa deve essere occasione di riflessione per il nostro tempo, soprattutto per il valore del perdono. Lei ha perdonato il suo assassino, dunque una piena testimonianza della parola di Dio. E con il cuore di questo anno di grazia, in cui abbiamo anche vissuto con solenità l'apertura della Porta Santa al Santuario, che è chiesa giubilare per il giubileo, l'anno della misericordia voluto dal Papa, il Vescovo ha scelto il nostro santuario come chiesa giubilare, il desiderio di avere nella nostra comunità una figura, una testimone straordinaria di purezza, di perdono, di misericordia, proprio in questo anno della misericordia del corpo, quindi alla santa reliquia proprio del corpo di Santa Maria Goretti, che giungerà dal Santuario Basilica di Nettuno. I padri passionisti ci hanno concesso proprio questo grande dono e l'accoglieremo nella nostra comunità. Sarà un momento forte per tutta la comunità, ma non solo per la nostra parrocchia, per tutto il territorio di Praia, per la diocesi, per le parrocchie, non solo della nostra diocesi, perché già diverse parrocchie, anche di diverse diocesi della Calabria, hanno fatto presente, che hanno saputo questa cosa e vogliono venire a venerare, a vivere un momento di preghiera e riflessione. Dal 19 al 23 febbraio tante le iniziative pensate per dare onore all'arrivo del corpo della Santa Donna. Il 19 ci sarà l'accoglienza della Sacra Reliquia, che arriva dal Santuario di Nettuno a seguire messe e celebrazioni, ma anche la proiezione del film Cielo sulla palude, con la presenza dell'attrice Ines Orsini, che ha interpretato il ruolo della piccola Maria. Ci saranno anche altri spunti, come il convegno sulla figura di Santa Maria Goretti e la Santa Messa Solenne di ringraziamento presieduta da Parre Giovanni Alberti, passionista e biografo ufficiale della Santa, ad attendere con ansia l'arrivo uno sfegatato devoto della Vergine Martire. Un grazie particolare lo devo dare al nostro Don, Don Frango Liporace, che, lo devo ammettere, è stato subito colto dall'entusiasmo, cioè il mio suggerimento è stato preso subito a cuore, per cui poi piano piano, insomma, in questo periodo, in questo anno, diciamo, che è passato, ci abbiamo lavorato sopra e abbiamo cercato, insomma, di portare a termine questo progetto, che, ripeto, è stata una sfida, sicuramente è stata una sfida, perché dobbiamo dire a tutti che non è facile portare il corpo, anche perché Santa Maria Goretti sappiamo che è una santa molto richiesta, ha girato tutto il mondo, ultimamente è ritornata proprio nel mese scorso di novembre dall'America, dove ha girato tutti gli Stati Uniti, praticamente ha toccato 40 paesi degli Stati Uniti, tantissime città.